E siamo ora nel Tempio con Erode e altri antichi figuranti. Sì, sono qua al punto del Tempio rappresentati con tutti i figuranti nelle vesti di Erode. Abbiamo Ernesto e anche altri figuranti che sono tutti comunque componenti del nostro gruppo che si cimentano pure in questa. Chi Erode? Quello seduto? Sì, quello seduto. Però non sembra così cattivo. Non sembra cattivo, però dentro si vede quello stato un po' che ha del rancore verso qualcuno. Però tutto sommato, per fortuna... È un bravo ragazzo, ora scopriamo com'è. Allora, Erode, è difficile essere magari buoni nella vita e fare il cattivo, tra virgolette, come figurante. Ma lo impone il ruolo? Il ruolo, però, come figurante, però nella vita sono... Ci mancherete. Sì, sono buonissimo. Auguri a tutti, raga. E tu cosa interpreti? Un figurante. Si dedicò un... Nel Tempio? No, un collaborante. Sì, il mio... il braccio a destra, diciamo. Quindi pensate un po' il collaboratore di Erode, sarà cattivelo pure lui. Lui sì, lui fa tutto.